Raga, ho una coccinella sul microfono, non sto scherzando, mi porterà fortuna, vorrà dire che questo video spaccherà di brutto Ragazzi, questi genitori sono completamente impazziti Oggi andremo a vedere cosa hanno fatto, quindi la loro reazione, quando hanno scoperto che i loro figli giocavano troppo ai videogiochi Io vi dico soltanto che la maggior parte hanno anche addirittura distrutto la console, il computer lo schermo del figlio Quindi ragazzi, stanno a divertirsi Neil, il padre è incazzatissimo, ti dico solo questo Guarda come, guarda come lo guarda male Fra, lo guarda con gli occhi, guarda il figlio sul divano Ah, non lo fanno andare a scuola i videogiochi Ma che cavolo, fra Fai soldi con YouTube Gli ha detto che Sì, sì, gli ho detto che va di merda a scuola, gli ha detto, raga Ma che cavolo, guardate lì dietro, fra C'è la madre dietro? Fra, guarda Che guarda tutto Mi sa che gli vuole distruggere la televisione Fra, gli vuole Guarda il padre Guarda il padre, adesso cosa fa? Fra, lo sta provocando troppo Fra, il padre ha arrabbiato lui, ha acceso la televisione davanti a lui Riprende il fratello È il fratello che riprende, fra Fra, il fratello però Magari si sono divisi la spesa del computer o della Playstation E poi ce la perde pure il fratello Esatto, no La Playstation O l'Xbox Aspetta No No, no, no Fra, guarda, sta facendo il caffè quello Fra, stai colpendo il cane Fra, gli ha distrutto Ma, ma, gli ha distrutto la console Corri al martello, fra Gliel'ha distrutta No No No, fra È clamoroso La storia di come un giovane youtuber ha perso il suo canale C'è, fra, anche, anche, anche addirittura la madre La madre, fra, sta urlando di dirgli di smettere al padre Ma lo stai sentendo? No, fra, è clamoroso, eh È clamoroso Fra, ma in tutto ciò se ne sta lì a ridere, scusami Eh, vabbè, fra la console era del fratellino più piccolo No, assurdo, ti giuro Se ne sta lì a guardare, a registrare tutto il tempo così, va Vabbè, però c'è da dire una cosa, alla fine se l'è cercata, eh Se l'è cercata, dobbiamo ammettere Fra, effettivamente, accendergli la tv davanti mentre ti fa il cazzettone Non è un'idea geniale, sì, esatto Qui, raga, abbiamo invece una madre Che è felicissima, fra È appena uscita con le amiche Però c'è l'Xbox del figlio, ma che cava È appena uscita con le amiche Sì, fra, guarda, è tutta in giacchettina, bo Fra Sta dicendo, aspetta, zitto, zitto, non sento Non ho sentito niente, non ho capito Te lo dico io cosa ha detto, che tu non sei neanche l'inglese Ha detto che il figlio gioca troppo all'Xbox E quindi gliela vuole distruggere E ora sono nel giardino di casa sua Così, per divertimento, siccome si è preso il caffettino con l'amica Adesso là, di un momento ci divertiamo Rompiamo l'Xbox di mio figlio, va bene Vediamo, no Però così è bruttissimo Fra, ma che la Alla mazza Martello No Il figlio è uscito di casa in quel momento Col martello Fra, le martellate più piano della storia, fra Sì, infatti Come dice, la spesa giù ti fa una carezza, vabbè Fra, ma sta rompendo la plastica Gli era già tolta la scheda madre Ma guarda Sì, il figlio è un idiota però Gli la lancia anche Ma che cosa sto vedendo? Ma poi senti come urla, fra Ma che cosa sto vedendo? Bravo, cosa sto vedendo? Ma senti come urla No, fra No, un altro No, no, no Non ci sto credendo Fra, ma che cavolo Non ci sto credendo Il PC, è il PC, è il PC È il PC, fra È il PC, fra Non sto scherzando Ma che cavolo Ti ha distrutto il laptop No Guardalo, guardalo Questo, fra, sembra un leone, fra Ma perché è a 90, fra? Fra, ma È diventato un top Fra Fra, sembrava un cane che gattonava Fra, ascolta, ascolta Quando è arrivato il padre con la mazza della baseball Si è messo tipo così Non stava lanciando in aria Ha provato a fare Tipo come fanno quelli che giocano a baseball Non sei riuscito Qui mi sembra che sia un fratello e una sorella Coscuio è finto, eh Secondo me è finto Sì, secondo me è finto Perché ha urlato tipo Ti odio all'ultimo E quella lì si è andata via tranquilla Sì, fra Più finto di cui c'è Poi, fra Mi è piaciuto che lei si è proprio tuffata Così Alla pedica Pellegrini Quasi Quasi ancora prima che lei lanciasse il telefono Sì Vai, l'altro, l'altro Ok Coscuio è grande, eh Coscuio è grande Fra, la faccia di Mattis Ti giuro All'inizio All'inizio Fra, Mattis Ti giuro Fra, ma Mattis è castano Sì, ma boh Aspetta Ah, qui il fratellino combina qualcosa Gli fa quelle vibes Ah, ma questo è il padre Chi l'aveva capito, fra Oh, ma il tipo che sta filmando Che cosa ha? Fra, il Parkinson ha sbagliato a vedere Guarda, fra Aspetta, ferma Vai a fermare il video C'è lui che ride C'è lui che ride Ma dove? Ma dove? Fra, l'ho visto Ti giuro l'ho visto Guardalo, guardalo, guardalo Guardalo C'è falso il video Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo Vediamo se è falso veramente Che vuoi fra Se è falso Sono stupidissimi Ah, no, sta ridendo Sta ridendo Ma magari è il figlio Fra, fra Ma che reazione è fra Fra, il bambino che prova a prenderla Lui Fra, ma Mi ha risbatto a terra E sta zitto Ma cosa sta succedendo? Oh, il bambino sta piangendo Fra, ma che cavolo Fra, non riesco a capire se il bambino sta ridendo No, infatti Ma sta ridendo? No, fra Questo è finto Su, no, è falsissimo Ma fra Ma guarda il bambino Che al sorriso Sta ridendo Alle possette della risata Ma fra Ma il bambino ha il sorriso sulla bocca Il caffè è la console in mano rotta Fra, ma forse all'inizio gli ha detto Te la rompo in cambio Che te ne compro una nuova È l'unica spiegazione Fra, guarda come ride Ma che cavolo Ok, questa è una femmina Ma io fra Non riesco mai a capire Se quello che inquadrano Prima è la madre o la figlia Ci credi? Sì, infatti Ok, era la madre Ma questo è un maschio Ma questo è un maschio Fra, pensavo fosse una femmina Io Vabbè, dettagli Dettagli Però ma c'è Gesù Cristo lì dietro È vero Spesso rispattere la Playstation Contro Contro il crocefisso Sta dicendo che c'è tipo Un conflitto di rispetto Si viene l'inglese te Sì Più o meno Aspetta Adesso sta facendo qualcosa di grave Saranno a prendere la matta Vai Prende il ferro adesso Gli è appunto Contro il monitor Aspetta Prende la mazza E dove gliela mette Fra Oh il piccone Il piccone Il piccone Fra Il piccone Ma che cosa ci fa No Lo schermo Lo schermo Ma cosa sta succedendo La console La console Ma col piccone poi Ma dico io Ma che ci fa Col piccone di minecraft Col piccone di minecraft Ah è un widescreen quello Ah effettivamente No è una lavagna Fra Ma lo distrugge per davvero Lo distrugge per davvero Guarda il bambino Guarda il bimbo Poverino No questo è vero Fra Questo è vero Ma guarda il bambino Ma chi è che sta registrando La madre È tutta contenta No Fra Secchissime Guarda pure col piede Mi ha toccato i capelli L'hai visto No Fra è clamoroso Ah comunque si Mi sa che è il fratello più grande Che li prende Non la madre Senti No questo qua Ssh Ah La ragione per il quale ha stoppato il video Perché i genitori sono arrivati Sono entrati Sì Sta piangendo qua Ma dov'è Ah qualcuno Qualcuno vuole snitchare Credo Non ho capito bene No No Guarda il fratello Guarda il fratello Fra Guarda il fratello Non lo deve dire i genitori Che è stato il fratello Vabbè Gli ha tolto la plastichetta di sopra Vabbè Esatto Non è che è rotta Fra Questo qua Zio È come quando A me i caramelli Si strappava la plastica Dicevo che la caramella è da buttare Cioè Si può incontrare Effettivamente Fra Fra è clamoroso Comunque il bambino Sì è proprio depresso Fra Non capisci Fra Ma ora è a posto Ora è a posto Fra ma Fra No No Il bambino No fra Questo qui è piccolissimo Questo è l'Xbox Fra ti dico soltanto Che questo qui è tipo un Xbox 2006 Sì infatti Attenzione Fra il bambino 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 Si è nascosto sotto il tappeto Sì Fra il bambino Ma 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 No Non si è rotta però Ma chi è che urla? Il bambino Non ci sto credendo Questo qua è un altro Vabbè Fra ma che casino ha fatto Studiola no fra Peggio di quando io faccio le feste in casa mia Fra Perché per feste in cazzo tu anzi No 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 Non si fa Fra perché non sono stato mai invitato Fra perché ti spiego Possono venire soltanto quelli che hanno un potente attivo superiore a 10 E quindi tu fra 26 Dai 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 Ma Hanno fatto un casino fra Hanno fatto un macello Adesso li rompe il pubazzo Fra Ah no ha un xbox Perché vedo la cosa La Le cose È un giorno da quello che ho capito Fra Non va a letto E gioca di notte ai videogiochi Eh babà Come si arriva Lo faccio la prossima volta No Ma È dato che Fra non fa niente tutto il giorno questo qua È tipo te Fra ma cosa sta No Guarda il padre No Col martello che ho guardato le mano Fra Ma Col martello in mano Fra È un omicidio ti giuro Ma Fra È vero Guarda Col martello Stai Con quanta cattivega Oh ma Fra ma Ma Questa qui l'ha distrutta No questa qui Fra Fra ma sta dando delle martellate fortissime No 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 Fra è rotta Fra fighati Vabbè È rotta Ma Adesso gli colpisce il piede Ritorno indietro Ha dato un calcio al martello col piede Ma che Guarda 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 in alto a sinistra Oh è vero Fra si è fatto malissimo Si è fatto malissimo Allora